Il mercoledì 15 I carabinieri di Napoli fanno tratta esecuzione a un'ordinanza di consulta a carabinieri e massas d'algipo di Napoli dei confronti di 19 indagati ritenuti appartenenti al gruppo criminale dei Farelli riconducibile ai clan Elia e Mariano attivo nel pieno centro di Napoli nelle aree dei quartieri spagnoli e del pallonetto di Santa Lucia dovranno rispondere a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti spaccio, tentato omicidio, detenzione e ponti illegali di armi esplosione di colpi d'arma da fuoco in luogo pubblico usura, favoreggiamento di latitanza e ricettazione nel corso di indagini coordinate dalla Direzione di Settuale Antimafia Paterapea i militari dell'arma hanno identificato tutti i responsabili tutti i componenti e individuato le principali fonti di profitto del gruppo criminale la gestione di piazze di spaccio del centro cittadino e un vasto giro di micro usura attraverso intercettazioni, installazioni tra le camere, investigazioni e peditamenti i carabinieri hanno identificato tutti i componenti del gruppo criminale di cui hanno delineato la struttura e individuato le principali fonti di reddito questa mattina al quale erano nell'ambito di un'indagine così data dalla Procure Settuale Antimafia di Napoli i carabinieri del nucleo operativo ed aereo mobile di Giuliano i militari della locale stazione hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di tre persone contigue al clan Terosa operante nel territorio di Qualiano di tenute responsabili di tentata estruzione aggravata dal meccolo mafioso e secondo l'accusa avrebbero tentato di costringere una prostituta a consegnare loro la metà del suo guadagno o la somma settimanale di 150 euro quale è il versamento del pizzo gli attestati sono stati distritti nella casa circondariale di Poggio Reale sciocca al tribunale di Napoli questa mattina un maresciano dei carabinieri in servizio presso il reparto di servizi magistratura del tribunale ha portato la pistola d'ordinanza contro se stesso esplodendo un colpo all'altezza della testa mentre si trova al 22esimo piano della torre A del Palazzo non si toccano il terzo guadagno residente della casa è stato subito soccorso e trasportato in urgenza in elieambulanza all'ospedale Caldarelli dove lotta tra la vita e la morte i peccati gialli di nocella inferiore hanno controllato un uomo di nazionalità italiana in possesso di 20 pacchetti di tabacchi lavorati esteri di contrabbando pronti per essere immessi in vendita il responsabile è stato segnalato alla competente agenzia delle dogane e dei monopoli per risuogazione delle conseguenti sanzioni amministrative l'operazione eseguita rientra nella costante attenzione da parte della Guardia di Finanza al contrasto dei fenomeni illeciti che possono arrecare grave danno ai consumatori e ai commercianti rispettosi delle regole del mercato è ufficialmente la caccia al seggio è scaduto ieri sera il termine di presentazione delle liste per le elezioni politiche del 4 marzo che porteranno alla riunione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica la nuova legge elezionale ha incodotto in Italia un sistema viso proporzionale e maggioritario un terzo dei seggi tra Camera e del Senato sarà eletto in scontri diretti dei collegi unidominali i destanti due terzi saranno eletti con sistema proporzionale in Campania ci sono 22 collegi unidominali per la Camera e 14 collegi unidominali per il Senato inoltre ci sono 3 collegi unidominali per la Camera per l'elezione di 20 deputati altri 3 collegi per il Senato per l'elezione di 18 senatori ogni elettore ha due schede una per la Camera e una per il Senato non è previsto il voto di preferenza ma bisognerà soltanto basare il simbolo del partito prescetto grazie per la cortesia attenzione d'appuntamento di 15 sembrati mondo di possibilità